Musica Bentornati all'appuntamento con le previsioni di Meteo One. La vasta discesa di aria fredda che ha interessato le nostre regioni nei giorni scorsi si sta spostando lentamente verso est. Sulla nostra penisola invece splenderà il sole ma in un contesto prettamente invernale. Ma ora andiamo a vedere il tempo sulle nostre regioni per giovedì 1 dicembre. Ancora bel tempo sulle nostre regioni con ovulicità in nuocoa nelle zone più interne. Temperature in leggero aumento sia nelle minime che nelle massime. Attenzioni alle possibili gelate nelle vallate e zone interne durante la notte e le prime luci dell'alba. I venti saranno moderati dai quadranti nord-occidentali con locali in forzi lungo le coste adriatiche e sul Salento. Ma in attuazione dal pomeriggio sera. Per quanto riguarda i mari l'Adriatico risulterà da molto mosso a mosso. Lo Ionio da mosso a poco mosso. Ma per il consueto appuntamento con la foto del giorno oggi ringraziamo il nostro telespettatore Fabio Memeo per questo splendido scorcio di Vieste e del suo mare increspato sotto le forti raffiche di vento. Se volete inviare la vostra foto del giorno vi aspettiamo numerosi sulle nostre pagine Facebook di Meteo One e Teleappola oppure alle email che vedete in sovraimpressione. La foto migliore verrà mandata in onda nella prossima puntata. Per oggi è tutto, vi ringrazio per l'attenzione e arrivederci al prossimo appuntamento. Grazie a tutti.